Quali sono i tempi di realizzazione del progetto di ampliamento del cimitero di Talsano? Casa Artigiani, a distanza di un anno, torna a interrogare l'amministrazione comunale sull'argomento e a sollecitare l'inizio dei lavori. L'associazione Tarantina, che già l'anno scorso interpellò l'amministrazione, torna a chiedere perché l'opera non venga cantierizzata e si rivolge al sindaco Rinaldo Melucci per avere chiarimenti in merito. Abbiamo ascoltato il segretario Casa Artigiani Taranto, Stefano Castronuovo. È un'urgenza che noi già un anno fa avevamo denunciato. Il cimitero di Talsano è saturo, non ci sono più posti, ma allo stesso tempo c'è l'esigenza di seppellire i propri cari. È un'emergenza che non può andare più avanti. La situazione l'abbiamo persa di vista circa un anno fa, la procedura amministrativa doveva andare avanti. Poi, fatto Covid e altro che abbiamo chiesto anche informazioni al sindaco e le direzioni competenti, non abbiamo ancora notizie su questo benedetto ampliamento del cimitero di Talsano. Ricordo che è necessario questo ampliamento, visto anche il numero dei morti che noi abbiamo sulla città di Taranto e sulla sua provincia. 1.400-1.500 salme all'anno che hanno bisogno di una giusta e degna sepoltura. E accontentare anche le famiglie, ma in questo momento c'è tutto un indotto che avrebbe la possibilità di lavorare e quindi creare economia sul territorio. Per questo abbiamo ancora una volta sollecitato il Comune di Taranto di farci sapere qual è la situazione.